Il Consiglio Comunale ha chiesto all'amministrazione di annullare la delibera sul rinnovo delle concessioni dei loculi. L'atto di indirizzo, approvato ad ampia maggioranza, ha raccolto tre diversi documenti con i quali l'Assemblea ha chiesto di fare un passo indietro sulla delibera del 23 aprile che riguarda il rinnovo delle concessioni dei loculi e di installare un sistema di videosorveglianza per rendere più sicuro il cimitero. Su quest'ultimo argomento è stato approvato un altro atto di indirizzo proposto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Ficara e Burgio. Sono stati tre i punti dedicati al cimitero. Chiara Ficara e Francesco Burgio hanno chiesto all'amministrazione di approntare, a seguito degli atti vandalici dei mesi scorsi, un piano di controlli ricorrendo anche a un sistema di videocamere e cancelli di accesso. A difendere l'operato dell'amministrazione è stato l'assessore ai servizi cimiteriali Alessandra Furnari che, pur ammettendo la difficoltà della procedura per la mancanza di atti concessori sui loculi affidati prima del 96, ha sostenuto la legittimità delle delibere, basata sullo studio della normativa e della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Non c'è, ha detto da parte del Comune, alcun atteggiamento vessatorio poiché è stato sempre detto che non ci saranno estumulazioni in danno di chi non paga se prima non saranno contattati gli eredi.